Musica Novissima, così la veneranda fabbrica definì l'arte di Lucio Fontana l'indomani della presentazione della sua proposta per l'allora incompiuta Quinta Porta del Duomo tra il 1955 e il 1956. E così, arte novissima, si intitola anche la rassegna che fino al 27 gennaio 2019 illustrerà all'interno della sala Giangaleazzo del Museo del Duomo proprio il rapporto tra il grande artista scomparso esattamente 50 anni fa nel 1968 e la cattedrale. Patrocinata dall'Arcidiocesi e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri da vari ministeri, da Regione Lombardia e dal Comune di Milano la mostra si inserisce all'interno del palinsesto della più ampia iniziativa del Comune di Milano 900 italiano. Fontana è una ricchezza per tutti ma forse pochi conoscono questa storia che lo lega al Duomo di Milano. È una storia che davvero va conosciuta e approfondita perché testimonia la grande relazione e rapporto che soprattutto nel 900 gli artisti della nostra città hanno saputo costruire con il tema del sacro e ovviamente con il massimo monumento sacro della nostra città. Credo che questo progetto sia particolarmente prezioso perché ci permette da un lato ovviamente di ricostruire e di conoscere questa parte della storia ma poi anche di fare un approfondimento su come il linguaggio dell'arte ha sempre nella sua storia saputo entrare in relazione con la dimensione della spiritualità, rinnovando sempre ovviamente i codici del linguaggio ma mantenendo molto forte questa aspirazione appunto ad un tema sacro e spirituale. Rassegna che è organizzata in tre sezioni e che ripercorre l'avventura creativa di Fontana appunto in Duomo cominciata nel 1935 tramite l'incarico di una statua per l'interno della cattedrale San Protaso del 1940 e proseguita con il concorso del 1950. Oltre al bozzetto della Quinta Porta il percorso espositivo comprende anche il Cavaliere in gesso e alcune fusioni bronzei dei bozzetti creati da Fontana per la cattedrale. È noto che il concorso indento dalla fabbrica per la Quinta Porta della cattedrale fu vinto ex sequo da Luciano Minguzzi e da Lucio Fontana e che la sua realizzazione venne infine affidata al primo. L'arte di Fontana fu infatti all'epoca giudicata e si torna così all'origine e al senso di questa mostra nuovissima. L'idea è innanzitutto un debito da pagare necessariamente da parte della veneranda fabbrica. Lucio Fontana ha collaborato dal 1936 fino al 1956 con la veneranda fabbrica ed è stata una collaborazione molto ricca, molto feconda, però finita male perché non vi era ancora la possibilità di un linguaggio comune circa i fondamenti dell'arte stessa. Cioè Lucio Fontana era ormai incamminato su una via, partendo dallo spazialismo, una via di rifiuto della figurazione, del figurativismo come fondamento dell'arte. Quindi la sua ricerca era una ricerca che trasgrediva il fondamento invece della tradizione dell'arte cristiana che è sempre stata figurativa proprio per illustrare alla povera gente gli episodi della vita di qualche santo o la Biblia pauperum, cioè la raffigurazione degli racconti biblici stessi. E quindi questo era dovuto non a una incapacità di una delle due parti di entrare in dialogo, ma davvero una novità che i componenti della veneranda fabbrica per ragioni pedagogiche la gente che cosa dovrà dire o per ragioni propriamente artistiche, ma questa non è un'arte che si può comprendere, ha sempre rifiutato di approfondire. Quindi in questo contesto bisognava riprendere quel bozzetto e abbiamo approfittato del cinquantenario della sua morte per restaurarlo, per rimetterlo in circolo. In questo modo c'era anche poi la possibilità di sfruttare questa fusione. Teniamo conto che la veneranda fabbrica aveva chiesto a Lucio Fontana una prova per una pala d'altare, questa di Sant'Agata appunto, pensata proprio per questo altare. Una prova in gesso in vista di una scultura col marmo di Candoglia. La scultura non fu mai fatta perché ancora una volta si arrivò alla rottura, all'incomprensione di un'arte novissima di cui non si capisce niente. E allora dobbiamo dire che il bozzetto era rimasto lì, nella fabbrica, tutto era stato bloccato e invece nel 1972 la fabbrica pensò di sua iniziativa di farne una fusione anche per proteggere il bozzetto che in gesso avrebbe corso il rischio di deperirsi lungo gli anni. Quindi è stata fatta questa fusione, solo che è una fusione in bronzo. Quindi immaginate voi questo bellissimo quadro dell'assunzione in marmo di Candoglia, cioè in marmo bianco, non con questo fondo oscuro che sta dietro la patina un po' che andrebbe restaurata effettivamente anche più radicalmente perché è un bronzo bello, ma è un bronzo scuro rispetto invece a una Madonna che dovrebbe essere splendente. A questo proposito è interessante pensare che sia stata chiesta una statua dell'assunzione perché il Duomo di Milano, pensato come restaurazione o ristrutturazione, rimodellamento dell'antica basilica di Santa Maria Maggiore, era dedicato all'assunta, era la gloria dell'assunta, il mistero centrale e il Duomo di Milano da sempre ha portato in sé il mistero dell'assunta, prima ancora che venisse posta la Madonina in alto al Duomo, come mistero capace di spiegare il tempo della vita cristiana. E allora si è scelto alla fine di dedicare il Duomo Marie Nascenti perché popolarmente era molto più di presa un'idea della Maria bambina che pure aveva avuto una sua lunga tradizione in Duomo, ma il mistero centrale di Maria è quello dell'assunta, cioè la nostra vita che tende alla santità e raggiunge la pienezza di questa umanizzazione proprio in Maria, la madre di Dio e della Chiesa. Grazie a tutti.